Mi l'ha aumentato Tu che è il professor Mastini? Giuretori all'Università di Zazza e mi l'ha aumentato quando è nata ai dati dei appassionati e mi ha aumentato il primo momento che non sono cobrati e si tiene giustamente incorporati e poi a tappi tutto e prendere anche a quello di San Igrego effettivamente i professionisti non devono essere e poi si tratta Azzalato giustamente la proposta non puoi dare su cosa vuoi fare penso di che è occupato trappicato in Internet rischi che lo vedete Io ho visto che inoscenze che è un livello molto attivo con l'operatore penso che inoscenze per usare la tecnologia penso che dovremmo se non l'operatore è statuabile a tradurre un sito in Internet ma io ho capito tutto il nostro comune sicuramente un operatore che ha lavorato ma io ho capito il nostro sito bilingu e che è il bisogno degli spessi di nostro nostro comune che ha capito un profetto dal basso di operatori non serviti per usare la grafica casi quattro operatori bravi e il suo comune deve aver fatto una locandina che è un'attività ma che non ha fatto l'italiano se tu hai bisogno di lavorare perché è un'attività o il sardo bilingue perché è un'attività di l'esercizio come dicendo la Gianfranca a imparare a imparare il programma di giudatitolazione il programma del doppiaggio Dio i questa non ci sono che abbiamo fatto ma si non ma non 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 ne processano ma dimostra ma e poi io sono davanti, non è il professor Coveneta no, ma che è verità? voi siete stati il primo maestro del linguaggio e devi essere linguaggiato in una certa maniera e comunque non ho messo questa frase che magari ha detto quando ti sa cosa sai però devi essere fatta col bella, col galana mezzo te fanno i testi italiani voi non siete un discorso del linguaggio umano e il professor Coveneta dice però è gara però è gara, dovete essere fatta mezzo che versi la vantaggio di Brunsa e la migla pur dell'italiano un'altra cosa che non manca e non manca a Meta è questa comunicazione io penso di a Edro Bromene ma penso di la nulina dei Meta dei operatori non si stimula di comunicare a chi vuole il lavoro e questo lavoro è importante e se su te e che su bimbi che su 20% ha i te non deve più fare il video ma metto sempre il mio conto quando hanno fatto un'iniziativa non va bene un giornalista, anche un torneo di futballe, di un calcio banil, e mi pone in un articolo che dice il giornale ma com'è possibile che noi siamo già attretti di pubblicizzare la nostra faena, la faena di rabbare, la faena della lingua e non la faena di rabbare? La proposta è a cercare di non formare fino al livello del giornale ma non ci ha cominciato il linguismo, ci ha dato che non è formato il livello del luce ci ha deciso di formare a noi, ci ha approfitto tutta la politica e linguistica del giornale ci ha deciso di formare a noi, ci ha sentito, io ho detto una lingua normale anche se lei non è sempre lasciata, ci ha deciso di formare, grazie E' un'intervista, l'ultimo è, ma è stato andato brutto non si è affaitato male, è stasato la porta, ma ora è affaitato il soccorso in mano non è neanche cosa del giudo e non è neanche cosa, cioè, per te ne aggiudo a noi, come istituzione provare un gruppo febri, non è vero, non è altra cosa Se questo concludo, se metterà la sua spueta Sampolo mancano Maria Dolores Lai, Nani Balconi, Maria Dutte Montisi e Patti Sbandino e poi la serrata di Peppe Corruccio Maria Dolores Lai, ma anche male, va fino a sveminare il suo pubblico linguistico se noi non conosciamo un'eserata che è bello pubblicizzare una fotografia di Maria Dolores e sui Tanteo vai d'inserato ma che devi usare una fotografia di un pastore o di un... del tuo suo mese giovento No, no, più oggi è più malissimo, non so sui miei, ma io voglio passare. Ma io non ho fatto mai tanto tempo, è crescita il topo, è crescita il bilinguismo, è crescita fino a zero. ho fatto come Presidente dell'Istituto Pellini del Cattari che tra i privati era insusato e presusato da 20 anni e tra i privati da decenni in cui abbiamo avuto una grande scuola e soprattutto i nostri sportelli comunali e sottolveratori siamo contenti di rimanere quello che abbiamo fatto fino ad ora siamo contenti di queste persone che hanno il formato che rivalgiano a noi e che hanno il generale sono tantissime persone che sono passate all'Istituto ma come siamo su questo palo è stato un momento di lavorare come abbiamo avuto un anno è importante a me fare le iniziative per promuovere questa lingua e questa attività del sangue e quando Deo dovevo invitare a un evento, un accoglio che siamo su Amagnetti notieri su Vincenzi 21 del Natale chieste ad essere una mostra, festa della letteratura sarda do al diese e noi abbiamo su a convidare tutti i nostri editori che hanno a mostrare tutti i nostri operati tutti i nostri operati hanno una persona che hanno fatto a fare i nostri operati a promuovere i nostri operatori dei sistemi e dei numeri e quindi il libro scuola. Però un'altra cosa, a un lato che è importante a me da produire materiale didattico, questa domenica a Vinti Gilberto e a Sant'Andria arrivavamo presentato con un cd didattico interattivo per insidere il suo santo e si chiedesse a bailare sul giasto dell'Istituto Pellinio, lo chiedesse scaricare, lo chiedesse impreare. Anzi, io spero che lo impreate tutto, per insidere un travaglio umano e me la vedo. Un'altra cosa che chiede a narrare è la sua organizzazione, chi è questo che è il Vatto Ero, io non so, per la cosa che si scordi, io ho il privato o l'Istituto Pellinio, sa segreteria, sa segreteria, proprio la sua organizzazione. Io credo che sia importante a me da fino a gusto, grazie alla sua organizzazione, ma è tanta attente, esiste un'opportunità, questa è un'opportunità di ripagliare il suo disportello, si si tuttano, non si fidi interessato a questa cosa, a questo progetto, a rufaggere, ma è tanta persona che non ha già un po' di risultato, non deve rimanere rapido, grazie a tutti. 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 Grazie mille. 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 Grazie mille.